Non è difficile, la tondola è salta! Sì, ce la faccio! Vediamo. Non ce la faccio! Tu non hai mai visto il mondo fuori da qui, ho ragione. Ho vissuto in un orfanotrofio, con gli umani. Ozzy parla la lingua dei segni ed è anche una influencer molto famosa. Cosa è successo alla nostra casa? Certo, ottimo, ottimo. Ma perché non facciamo parlare la scimmia? Non sono una scimmia, sono un orangotango. Jess, conosci questo posto? I miei genitori potrebbero essere qui. Sembra divertente. Tu sei l'unico che conosce la foresta. Solo per ora. Potrebbe essere veleno. Questa è la nostra casa. Greenzar sta distruggendo la nostra isola. Devo dire al mondo cosa sta succedendo. Portaci via da qui! Sì! Mollalo, Smiley! Radio Italia. Radio Ufficiale.